Rosaria nasce perché è un nome tipico siciliano ed è stato legato all'arancia rossa come rossa e di conseguenza rosaria. Dove il frutto è più piccolo c'è il succo migliore. Baby rosaria è stata più scelta per le spremute e soprattutto per i bambini. Rosaria pensa di incrementare sempre di più la sua conoscenza come prodotto bio.